Ecco, fanno rientro in campo le due compagini per la decima giornata di andata del campionato di seconda categoria di Rome e tra Casa L'Incontrada e Virtus Castelfrentano. Il Casa L'Incontrada è prima in classifica con 24 punti, mentre la Virtus Castelfrentano si trova a 20 punti e ha già fruito del turno di riposo, ecco c'è la ripresa, forza ragazzi, forza cominciate. Ecco, sta riprendendo. Ecco l'urlo di guerra dei nostri ultras, gioventù frentana. Più forte! Riveglie così, riveglie così! Un'altra volta! Ecco la sciarpata, la classica sciarpata. 巨ete. Come si u wino! O va! Si u wino! Si u wino! Si u wino! Dolina! ivable! No! Og ho! No! che si sono organizzati nel tipo, non stanno esistendo, stanno facendo la classica scarpata con le nostre splendide scarpe che servono per coprirti, come quello mi sembra di fare si sta mantenendo la manipola, quando uno muore una persona per cerrare la bocca 47, molto che parla